Chiusa dal 10 al 14 marzo la scuola Balsamo di San Cataldo, il plesso scolastico di via Monsignor Cammarata chiude i cancelli per poter effettuare lavori di manutenzione dell'impianto di riscaldamento che interessano sia la scuola secondaria di primo grado Giuse Carducci che quella dell'infanzia del secondo circolo poiché presenti entrambe all'interno dello stesso edificio. Nel documento si legge infatti che si arriva a questo provvedimento dopo la segnalazione del mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento da parte dei dirigenti e a seguito di apposite verifiche dell'amministrazione. I disagi intanto sono stati evidenziati anche dai genitori degli studenti che hanno sofferto il freddo particolarmente intenso soprattutto negli ultimi giorni. I nostri figli negli ultimi due mesi hanno fatto lezione al freddo e c'è stata anche una mancanza di acqua soprattutto con la situazione pressante del covid è stata una situazione un po' particolare e di conseguenza moltissime mamme non volevano mandare i figli a scuola. Speriamo soprattutto che si risolve il problema perché sappiamo benissimo che la scuola in presenza è un'altra cosa. In quest'ultimo periodo, nelle ultime due settimane soprattutto con l'abbassamento delle temperature, i ragazzi e anche i docenti hanno sofferto molto il freddo. Ci auguriamo che il sindaco risolva al più presto il nostro problema in maniera che i ragazzi ritornino a scuola per svolgere la loro attività. Dai primi di novembre ci siamo messi a tappeto a controllare per tutte le scuole per cercare di dare anche dignità di nuovo all'ambiente dove gli scolari lavorano. Siamo arrivati alla chiusura della scuola del plesso Balsamo così come anche alla chiusura del plesso di Corso Unita d'Italia proprio perché gli impianti di riscaldamento sono completamente arrivati e quindi serve una manutenzione. Attraverso questo abbiamo predisposto delle somme urgenti affinché si potesse procedere a dei lavori immediati con delle squadre specializzate che sono attive in questo momento con degli interventi molto veloci e speriamo anche risolutivi. Il plesso Balsamo è stato chiuso proprio perché sono iniziati dei lavori di ristrutturazione e di riparazione dell'impianto delle caldaie e di tutto l'impianto di aereazione. Adesso in questi giorni stanno identificando un pochino quali sono i grossi problemi e sicuramente per la settimana prossima daremo una soluzione risolutiva proprio perché non possiamo più permettere che i nostri scolari, tutta la comunità scolastica sia in queste condizioni di freddo. Interventi che stanno coinvolgendo anche altre scuole come il plesso Corso Unita d'Italia. Gli studenti al momento stanno proseguendo le lezioni all'interno dell'oratorio salesiano maschile. Anche Corso Unita d'Italia con i lavori che stanno andando spediti a brevissimo sarà riconsegnata quindi i bambini potranno ritornare in quell'altra scuola del Corso Unita d'Italia dove davvero abbiamo registrato un disastro. Insieme a quello abbiamo consegnato i lavori del plesso di Lambruschini del primo circolo che da più di quattro anni era completamente chiusa. I lavori sono iniziati e anche a settembre consegneremo quella nuova scuola a tutte le famiglie e alla comunità sancataldese. E ancora da dicembre sulla scuola media Carducci abbiamo lavorato insistentemente per tutto il mese di Natale anche durante i festivi per procedere anche alla sistemazione di perdenze molto gravi, di carenze molto gravi a livello di manutenzione che impedivano il benessere dei ragazzi e che appunto portavano al spegnimento dei riscaldamenti.